Abbiamo voluto lanciare una proposta certamente coraggiosa, ma davvero una proposta che potrebbe fare la differenza ai fini della crescita turistica e socio-economica del territorio tarantino, far sì che la nave Garibaldi, una volta dismessa, possa essere ceduta dal Ministero della Difesa, dalla Marina, al Comune di Taranto per farne tanto, dico davvero tanto, farne una nave museo, poter ospitare degli spazi socio-culturali e invece ora la voce che corre sarebbe quella di trasformarla, una volta dismessa, in una piattaforma per il lancio dei satelliti. Non vogliamo assolutamente che nave Garibaldi faccia la ingloriosa fine capitata ai noi al Vittorio Veneto, una rottamazione triste con una nave con il Vittorio Veneto partita, allontanatasi per sempre di notte, quasi fosse una cosa furtiva portarla altrove. Un'idea questa che abbiamo lanciato, che porterò avanti nelle commissioni consigliari in Consiglio Comunale, con l'amico Peppe Giuseppe Briganti, che è contrammiraglio del genio navale in riserva, è stato il coordinatore, ha coordinato la lista Taranto Next Generation, che era una delle liste a supporto mio nella campagna elettorale come candidato sindaco, ma questi punti, questo punto c'era nel programma e Peppe vogliamo portarlo avanti. Ti ringrazio Luigi, è un punto importante. Taranto non ha alcun manufatto, se non il monumento al marinaio, che leghi le vicissitudini passate delle genti locale alla marina militare. Nave Garibaldi è un attrattore turistico fenomenale. Averne la disponibilità in centro città a similitudine di tante città europee che sfruttano queste occasioni, sarebbero una risorsa assolutamente da sfruttare per la creazione di tanti posti di lavoro che permetterebbero a tanti giovani locali di evitare l'emigrazione verso altri lidi per soddisfare le proprie esigenze. E mi auguro che la proposta e le azioni che farà il consigliere Luigi, farà nelle sedi più opportune, possano condurre a questo finale e che finalmente Taranto possa avere un qualche cosa che sancisca il legame indissolubile che lega questa città alla marina militare. Noi abbiamo inviato una missiva lanciando questa proposta al Ministero della Difesa, allo Stato Maggiore della Marina Militare, al Comando Marittimo Sud, ma è ovviamente l'auspicio era ed è che l'amministrazione comunale dia risposte, l'amministrazione Melucci prenda a cuore questa nostra proposta che è una proposta per il bene di Taranto. Finora però l'amministrazione Melucci anche in questo campo, in questo ambito è stata silenziosa, un silenzio assordante. Non lamentiamoci quando si parla del territorio che non cresce, di tanti episodi, facciamolo crescere, mettiamo da parte anche le appartenenze politiche, ma facciamo sì che davvero Nave Garibaldi possa essere l'orgoglio di Taranto, una nave che rappresenta l'orgoglio di Taranto, l'orgoglio della Marina Militare e di cui tu Peppe sei un alfiere, perché duole al cuore vedere una nave ridotta magari alla rottamazione. Certo, attualmente Nave Garibaldi è candidata per il sistema Simona, che sarebbe il sistema italiano di lancio dei satelliti in orbita utilizzando dei mezzi navali. Noi riteniamo che questa soluzione, seppur efficace, non sia la migliore soluzione, sia in termini di sicurezza che in termini economici, perché Nave Garibaldi potrebbe essere più proficuamente utilizzata quale attrattore turistico in questa città per la creazione dei posti, come è anzitetto, e anche per creare quegli spazi socioculturali che potrebbero incrementare la vivibilità di questo sedime, di questa collettività che al momento non ha nessuno spazio culturale dove potersi appoggiare. Nave Garibaldi ormeggiata alla banchina torpediniere, praticamente di lì in prossimità anche del Museo Nazionale Marta, sarebbe anche, non è da sottovalutare, un efficace eliporto per la città per qualunque situazione si potrebbe eventualmente presentare. Grazie.